Oggi al Senato, Teleambiente, la Fondazione Univerde, il No CETA e Campagna Amica presentano l'impegno delle forze politiche a non votare il CETA. Il CETA è appunto un trattato internazionale con il Canada. Noi di Teleambiente fin dal 2015 seguiamo la questione, abbiamo seguito appunto la ratifica al Parlamento Europeo a febbraio del 2017 e poi adesso stiamo seguendo logicamente la ratifica nello Stato italiano. L'esame è passato, il trattato è passato in commissione ma non è passato in auda al Senato grazie appunto alle lotte di molte associazioni di cui Teleambiente che ha gestito la situazione anche facendo un filmato che troverete sul sito di teleambiente.it in cui specifica in 5 minuti come e cosa è il CETA, cosa va a toccare specialmente i diritti dei consumatori, degli agricoltori italiani e anche della sua unità nazionale. Dallo scorso settembre il CETA è in vigore in forma provvisoria, manca però la ratifica ufficiale. Oggi al Senato voi chiedete un impegno ai futuri parlamentari, di cosa si tratta? Noi oggi annunciamo l'impegno per ora raccolto grazie all'attività della Goldiretti, di Campagna Amica, della Campagna Noceta, della Fondazione Univerde, dei nostri amici di Teleambiente e di tanti altri che stanno collaborando. Abbiamo un primo dato cautelare, quindi siamo tenuti i bassi, che abbiamo circa 410 deputati che saranno eletti e 220 senatori che hanno dichiarato che voteranno Noceta. Quindi possiamo dire che il prossimo Parlamento boccerà il CETA se i candidati che oggi si candidano manterranno gli impegni. Anche perché abbiamo avuto l'adesione di interi blocchi di partito, Movimento 5 Stelle, La Lega, Il Potere al Popolo, Liberi Uguali, Fratelli d'Italia e poi un terzo circa dei candidati del PD e Alleati e di Forza Italia. Quindi presumibilmente dovremmo superare i 400 deputati e i 200 senatori che bocceranno il CETA. Poi è chiaro che il lavoro sarà quello di vigilare perché rispettino gli impegni, soprattutto in quei partiti dove c'è una minoranza che è Noceta. Abbiamo avuto addirittura anche due di Europa della Bonino, notoriamente la Bonino è quella più filo CETA, quindi anche qualcuno dei suoi candidati ha dichiarato che voterà No. Una battaglia per la tutela della qualità alimentare e dell'ambiente. Siamo coperti di motivazioni, come avete visto, per bloccare il CETA. Il CETA non è soltanto un trattato commerciale, l'abbattimento di tazze e dogane che peraltro è già avvenuto e già crea problemi è soltanto una piccola parte del trattato. In realtà essa andrà a costituire delle commissioni che si occuperanno di standard, che si occuperanno di qualità, di diritti del lavoro, di ambiente e valuteranno gli standard delle leggi in vigore a partire da quelle più convenienti. Noi invece vorremmo che le valutassero, soprattutto in questo grave momento di crisi, anche in questo respiro di ripresa, in base a quanto ci servono e a quanto proteggono i nostri diritti. Questa è la nostra proposta, molto costruttiva appunto, quindi fermare il CETA per riaprire una discussione sulla qualità del commercio e sul ruolo del commercio di cui abbiamo bisogno. In che modo il CETA minaccia agricoltori e consumatori, oltre all'ambiente? Le ragioni sono molte. La prima è legata al fatto che il tipo di accordi che l'Europa sta mettendo in atto per definire politiche commerciali azzera l'agricoltura delle distintività, dell'identità. L'Italia rappresenta un grande patrimonio di prodotti legati ai territori, alla cultura, alla bellezza dei luoghi, ai mestieri. Tutti questi prodotti hanno un nome, un nome che diventa anche un oggetto di interesse commerciale, l'occasione per creare reddito, occupazione e manutenzione del territorio dall'altro lato. Questi nomi sostanzialmente non vengono riconosciuti nel commercio, vale a dire vengono volgarizzati, sono oggetto di pirateria commerciale. Perché? Perché non sono protetti. Con questo accordo noi perdiamo la possibilità di poter commercializzare i nostri prodotti, il parmigiano reggiano, la mozzarella, il prosciutto, qualsiasi alimento che ha un nome di territorio nei mercati canadesi per quanto riguarda il CETA e purtroppo il CETA è il progenitore di una serie di accordi, i figliastri, il Giappone, il Mercosur, che ripetono la stessa regola di non riconoscere la nostra distintività. E questo è chiaramente un grave pergiudizio per la nostra agricoltura, per il Made in Italy, che vale 50 miliardi di euro di esportazioni, però conta quasi 60 miliardi di euro di frodi commerciali e questi accordi andranno a legittimare le frodi commerciali, perché non è possibile trovare negli scaffali dei mercati del Canada e degli Stati Uniti dei formaggi come il parmigiano parmesan, che di origine territoriale nazionale non ha nulla se non il pregiudizio dell'insidia del nome commerciale. Quindi i nostri prodotti che hanno un'autenticità territoriale, sapori, genuinità, non potranno trovare spazio. Tra l'altro sono venduti a un prezzo assai inferiore e per cui concorrenza sleale, dumping commerciale. Poi ricordiamo, in Canada, per parlare di CETA, sono autorizzate 99 sostanze ad uso di serbante che in Europa sono vietate e noi non vogliamo mangiare prodotti che sono al limite della sicurezza, come il glifosate, per cui diventa importante anche in Europa la questione dell'etichettatura di origine. Scrivere da dove è ottenuto, è coltivato un prodotto significa dare trasparenza commerciale. Purtroppo questi accordi che sono trattati in gran segretezza rendono opache le transazioni, privano i cittadini consumatori anche dell'esercizio democratico di scegliere correttamente i prodotti che portano a tavola. È sufficiente una motivazione, ce ne sono tante, ma la motivazione per cui lo scontro fra due culture fondamentali per difendere i diritti dei cittadini, dei consumatori, dei paesi, che è quello per cui alcune culture dicono che bisogna prevenire e quindi per noi fondamentale il principio di precauzione che sembra messo in discussione, anzi la loro volontà di mettere in discussione il principio di precauzione. È un'altra cultura che è quella di dire se interviene quando i fatti accadono. Ecco, solamente per questo motivo, che è un motivo forte non solo economico ma anche culturale e etico, bisogna dire di no a tutti i trattati che pongono questi problemi e vogliono cancellare questo fondamentale diritto dei cittadini.